Buon pomeriggio a tutti. Allora, come andiamo? Siamo arrivati a venerdì, è stata una settimana durissima. Abbiamo ricominciato a lavorare, pensate, appena abbiamo ricominciato, l'Università Nicolò Cusano ha cominciato a fare rientrare le persone e abbiamo subito avuto i primi casi Covid e quindi abbiamo dovuto mettere tutto in emergenza e li siamo praticamente all'inizio. Comunque, ok, una vita veramente dura. Nel frattempo le mie attività in giro per il mondo vanno bene e anche in Italia devo dire che le cose vanno nella maniera giusta. Il rapporto più difficile che riesco ad avere, riesco ad averlo con l'Umbria. Evidentemente non sarò nato per il mondo del calcio, non sono nato nemmeno per ragionamenti semplici. Allora, io voglio fare un ragionamento semplice. So che è uscito ultimamente un articolo dove qualche assessore regionale si domanda cosa voglio, cosa non voglio. Tutta una serie di affermazioni, lucubrazioni, cioè onestamente non lo so bene di cosa stiamo parlando, però voglio essere chiaro. Stefano Bandecchi ha detto che lo stadio di Terni lo può costruire per intero, senza bisogno di tante chiacchiere, qualcosa di nuovo, di moderno, che permetta a tutta la tifoseria di vedere le partite da vicino. Cosa vuole Stefano Bandecchi in cambio? Come dice la legge per la costruzione degli stadi, si possono fare operazioni di carattere commerciale. Stefano Bandecchi vuole i permessi per una clinica di grande livello, di altissimo livello, dove si possa fare ricerca scientifica, dove si possono curare pazienti che arrivano dall'Umbria e che arrivano da tutta Italia. Creando, diciamo, 250 posti di lavoro a Terni, tutti qualificati, professionalizzanti e dando anche all'Umbria qualcosa di diverso a parte, diciamo, ciò che ha. E quindi facendo diventare anche l'Umbria una realtà di eccellenza per quanto riguarda l'ambito sanitario. Non chiedo niente di particolare, questo sta scritto nella legge, la legge che permette di fare gli stadi e che dice che si possono fare gli stadi e che poi lo stadio va donato alla città, al comune, dopo averlo gestito per totta anni con la squadra della Ternana. Può essere fatto in cambio di una clinica dove comunque con 100 posti letto siamo tutti a posto. Questo io avevo chiesto alla regione e la regione lo dovrebbe sapere benissimo, però siccome sembra che tutto diventa in segreto e sembra che tutte le volte io chiacchierò arabo, ora ho parlato italiano. Io voglio dare posti di lavoro, creare posti di lavoro e fare una clinica in Umbria. Se me la danno faccio lo stadio, se no gioco con la Ternana, spero che tutto vada bene e dopodiché vado a farlo in Inghilterra. A Londra mi fanno anche un monumento. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.